uè non fare il barbone da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice creator clicca in basso a destra sul tasto supporta un creatore ed inserisci xiodarone uè bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xiodar e ragazzi che ve lo dico a fa con la patch 9.30 abbiamo finalmente visto un bel po' di novità e di spoiler che arriveranno nei prossimi giorni di fortnite sono state mostrate le skin relative a quelli che si qualificano alla world cup sono state mostrate le skin invece dello shop le nuove coperture i nuovi balli una montagna di ltm e tante altre cose che magari vi sono sfuggite che voglio dirvi nel video di oggi come ad esempio le sfide a premi una valanga di regali in arrivo tra pochissimi giorni per tutti noi giocatori di fortnite che ovviamente non vogliamo farci mancare nulla e quindi una bella occasione è quella di ottenere ben 14 regali gratuiti ma anche una carrellata se ne avremo il tempo di vedere oltre alle nuove skin anche il nuovo bundle ragazzi per chi non l'avesse ancora visto meraviglioso arriva il terzo pack leggendario di fortnite e come non mancherebbero un bel po' di leaks anche di cose un po' più nascoste per tenervi sempre aggiornati su tutto quello che è il dietro le quinte di fortnite prima però volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone quando scioppazzate di prepotenza ogni giorno mi raccomando ragazzi utilizzatelo iscrivetevi al channel taggatemi nelle storie di instagram e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima e ve la ve la devo fare raga la domandina che oggi ci tengo mi rispondete sempre in tantissimi io li vedo i vostri commenti vi ringrazio per rispondermi ma la domandina di oggi dai l'avete l'avete già capita se mi seguite ragazzi ve la faccio ugualmente ma come diamine ti sembra lo sguazzo trangugio non si può sentire sguazzo trangugio cioè in inglese fighissimo tipo chug splash che che figo di nome cioè lanci appunto questa questa specie di sestetto di chug in miniatura che come sapete ovviamente danno immediatamente salute oppure shield qualora dovessimo essere full di salute a noi al vostro team ma anche i vostri nemici quindi attenzione a come li tirate la domanda è come vi sembra io vi dico la mia ragazzi secondo me lo nerfano lo nerfano e op cioè hai uno stack da 6 ok perché non ho trovati 8 potrebbe anche essere da 8 ma non credo tu riesci ad andare in meno di 5 secondi da 1 di vita a 100 di salute più 20 di shield 21 per la precisione secondo me è op mi piace l'idea meravigliosa ma una bilanciatina io gliela darei ditemi la vostra ovviamente qua sotto nei commenti ma quindi ciao ciao levande e vando alle ciance siamo subito come vedete con uno sfondo ahimè molto interessante sponde del saccheggio quando abbiamo finito di installare l'aggiornamento ieri mattina entrando a sponde del saccheggio la prima cosa che si è notata è la distruzione totale di una delle due fabbriche e come vedete là in alto anche lo vedete proprio la scopertura di alcuni cavi che potrebbero quindi mettere seriamente a repentaglio l'arrivo di energia a neo inclinata se ne parla tantissimo già da inizio season da quando sono apparsi appunto questi cavi che sarebbe potuto succedere qualcosa a neo inclinata un blackout generale un blackout che non dovrebbe essere così lontano dalla possibile storyline vedi il pack che vi voglio far vedere tra pochissimo leggendario abbiamo un'immagine un po più da vicino dei cavi ragazzi e quindi l'impronta c'è uguale a quella che abbiamo visto a picco polare e il danno uguale a quello che abbiamo visto a sponde del saccheggio e a parco pacifico molti dicono che sia un drago è molto probabile che sia seriamente qualcosa che vola perché non avrebbe senso non vedere altre come si dice modifiche alla mappa e appena sapremo qualcosa di più ovviamente lo saprete anche voi vi informo anche che è stato inserito comunque il timer nei file di gioco per l'evento cactus quindi tra poco chissà dove vedremo olograficamente in cielo un timer che ci segnalerà l'evento della season 9 ufficiale che potremo vedere tutti partecipando al game ma andiamo avanti ragazzi ed ecco qua finalmente anche le prime immagini vere per le skin per gli stili delle skin del 4 luglio chi ha già queste skin ragazzi ha già ottenuto anche gli stili mi è capitato di giocare proprio ieri pomeriggio con un ragazzo che aveva questa skin io non ricordo il nome in questo momento ma oltre a lei c'è anche lui milite qualcosa se non sbaglio assolutamente a dire come vedete fazzoletto americano come vi dicevo le skin sono già disponibili ma i backpack invece non ancora almeno così non sembra non mi date non vi do la conferma ma ho letto che non ci sono ancora quindi con il backpack di lui ci abbiamo preso nel video di ieri mattina ragazzi perché è praticamente uguale il backpack di lei invece non sapevamo ci fosse eccolo qua in alta definizione ma andiamo avanti ragazzi ed eccole qua invece le sfide per la 14 days of summer di fortnite quindi i 14 giorni che ci porteranno all'estate di fortnite un evento una serie di sfide più che un evento che ci permetterà di guadagnare premi davvero molto divertenti a tema estivo indiscutibilmente e alcuni di essi super interessanti come il premio finale complete all for this award che non è altro che un backpack con il pili juice quindi il succo di banana di cui stiamo cominciando a parlare sempre di più insistentemente sarà il backpack premio di questi eventi abbiamo anche schermate di caricamento abbiamo anche nuovi spray abbiamo anche le coperture non sto neanche a dirvi ragazzi intanto questa invece è la seconda pagina delle sfide standardi giocattoli picconi tutto abbiamo ragazzi non sto neanche a dirvi che ovviamente troverete ogni giorno un video con la soluzione alla sfida o alle sfide qualora ne uscissero no ne uscirà una alla volta perché sono 14 quindi con le soluzioni se dovesse essere necessario per completare le sfide e portarvi a casa i vostri premi ma ragazzi eccolo qua eccolo qua lo shadow legend pack ufficiale inserito con la patch 9.30 il terzetto di skin leggendarie che vanno a comporre il terzo bundle speciale di fortnite come vedete abbiamo delle versioni molto dark e qua mi riallaccio al discorso di cui vi anticipavo a inizio video blackout dark dark e oscurità non lo so non lo so comunque abbiamo il falco solare che è nero lei si chiama skinny se non ricordo male e ombra oscura non ricordo il nome della skin che normalmente è rossa particolarità di questo pack ragazzi è che l'ombra non ha il backpack o forse ha delle ali nere no ma non credo e particolarità di questo bundle è la presenza della copertura per armi e veicoli questo farà sì che ovviamente io me lo prenderò prezzo del bundle molto probabilmente sarà 19 euro e qualcosa ragazzi io chiudo molto velocemente con quattro schermate di caricamento la settimana numero 7 la settimana numero 8 che va a riprendere in poche parole il trailer di questa season la settimana numero 9 che non si vede lei aspetta che ve la faccio vedere molto carina come vedete in basso a destra c'è anche la posizione della stella segreta e la settimana ultima di questa season numero 9 la numero 10 che va a mostrare la skin del punto di rottura che sarà acquistabile molto presto io vi ringrazio tantissimo per avere guardato questo video le novità in realtà sono molte di più ma le vedremo nel dettaglio giorno per giorno noi ci vediamo tra poco in live ciao ciao